Ciao sono Elena, oggi vi mostrerò come preparare una coroncina primaverile. Pensavo di proporvi questa coroncina con un bel fiocco, dei ranuncoli gialli e dei fiorellini bianchi complementari e poi inseriremo anche degli uccellini. Cominciamo allora con un bel fiocco. Allora, pensavo di mettere un bel nastrino da un lato, adesso vi faccio vedere, mettiamo un po' di colla a caldo, poi io ho già preparato in anticipo il mio fiocco, questa volta lo facciamo laterale, così, poi pensavo di mettere un cordino, un verdino un po' più chiaro per dare un po' di vicentezza alla nostra coroncina. sempre con la nostra colla a caldo. Ecco, adesso inseriamo qualche fiorellino allora. Io come vi avevo detto avevo scelto i fiori di ranuncolo giallo per la nostra primavera. Adesso mettiamo qualche fogliolina di base come riempimento. E poi cominciamo anche l'inserimento di qualche fiorino bianco. Ecco, adesso abbiamo inserito tutti i fiori e pensavo di aggiungere i nostri due uccellini. per dare appunto un tocco di primavera in più. Sono carini, colorati, in giallo. Ecco la nostra coroncina, adesso è pronta. Vi aspettiamo qua in negozio per vari consigli e per preparare ogni tipo di composizione. Buona giornata a tutti! Musica Grazie per la visione!